Sicuramente è una grande soddisfazione, una bella sorpresa perché speravo di fare un buon risultato ma non così e anche una grande responsabilità, infatti questa è una delle prime iniziative pubbliche e politiche che faccio da eurodeputato appena mi hanno invitato, è anche un modo per ringraziare questo territorio così ricco, così operoso che ha bisogno di supporto anche a livello europeo e oggi proprio ho incontrato la commissaria europea ai fondi strutturali, abbiamo parlato del tema dei fondi europei, del PNRR cioè il problema che il governo italiano sta andando malissimo su questo fronte e di oggi la notizia che del 74 miliardi di fondi europei strutturali noi per ora abbiamo speso solo lo 0,6% che è una cifra inaccettabile, siamo lenti, siamo burocratici e questo danneggia soprattutto il centro sud e quindi la provincia Frosinone che è una provincia strategica ha bisogno invece di risorse e ha bisogno anche di un governo che la supporti semplificando le regole e anche l'attività amministrativa.